Vince l'undicesima finale del 7-20 di LVC femminile la canottieria Rolo! Grande tifoveria per Beatrice Ferretti! Beatrice Ferretti che come sempre si è anche scritta canottieria Rolo sulle braccia e che ci racconterà ovviamente qualcosa! Infatti Beatrice Ferretti complimenti per questa vittoria a Rolo sul body e sulle braccia! Come mai? È un'idea dei miei amici! È un'idea dei tuoi amici! Perfetto! E ai tuoi amici adesso dedichi questa bellissima medaglia d'oro? Certo! E anche ai miei allenatori! Chi sono i tuoi allenatori? Marco Fattoretto e Bobbio Marino! Perfetto! Complimenti alla canottieria Rolo e a Beatrice per questo grande successo!